ma grazie siano rese al signore perché anche oggi lui è qui in mezzo a noi alleluia io mi chiamo andrea fortezza lei mia moglie lorena e vogliamo raccontarvi brevemente cosa il signore ha fatto nella nostra vita perché dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia io ho iniziato a usare la droga all'età di 12 anni le droghe leggere lasci c'è la marijuana ogni tanto prendevo qualche bottiglia di alcol ogni tanto qualche psicofarmaco suonavo in un gruppo musicale e mi sembrava che dovevo conquistare il mondo ero così in mezzo agli altri mezzo ai ragazzi usavo queste sostanze e mi sentivo bene quelle sostanze praticamente mi facevano sentire quello che io non ero io ero timido ero introverso invece quando usavo queste droghe riuscivo a parlare con gli altri riuscivo a ridere riuscivo a suonare riuscivo a fare delle cose che senza questa droga non riuscivo a fare questo è la menzogna che questa droga il nemico delle anime nostre mette nella mente di chi usa queste sostanze oggi ne sento dire di tutto e di più la marijuana è terapeutica che nulla toglie se magari la scienza ha potuto individuare che sia terapeutica ma se un dottore un giorno mi dovesse dire usa la marijuana per star meglio dico usala tu perché a me mi ha portato tanta dipendenza cioè io sono stato malissimo per usare queste sostanze perché non riuscivo a smettere era una dipendenza che non solo psicologica ma anche fisica cioè io non ne potevo fare a meno all'età di 18 anni mi proposero l'eroina perché la droga questa leggera non mi bastava più e iniziai a bucarmi con l'eroina anche qui c'è un dire che le sostanze chi usa la droga leggera non passa a quelle pesante non è vero perché una buona percentuale di coloro che usano le droghe leggere useranno poi le droghe pesante che sia l'eroina che sia la cocaina che sia un acido che sia qualche altra cosa ma passeranno è un dato di fatto io l'ho sperimentato ed era una vita brutta difficile sofferente perché avevo bisogno di drogarmi ogni giorno quindi dovevo vendere anche la droga per poter per poterlo usare ho iniziato ad essere anche un delinquente facevo dei furti nelle campagne nelle case ero completamente immerso in questa vita da delinquente da drogato ma nonostante questo nonostante avesse conosciuto poi Lorena siamo sposati ho avuto la nostra prima figlia trovavo un lavoro c'erano tante cose che mi circondavano ma non appagavano il mio cuore era come se dentro di me c'era continuamente un vuoto un profondo vuoto che niente riusciva a colmare da lì a breve quando siamo sposati io andavo in una comunità perché avevo bisogno di aiuto dovevo essere aiutato e feci quasi due anni in questa struttura poi sono uscito e sono ricaduto di nuovo perché perché oggi non lo sappiamo attraverso la parola di dio che le nostre battaglie non sono contro carni e sangue non sono contro delle persone che io posso prendere e allontanare le nostre battaglie sono contro i principati le potestà contro le forze del male io stavo combattendo una battaglia con le mie forze è vero sì che le comunità aiutano non voglio denigrare il lavoro che viene fatto però queste battaglie sono battaglie spirituali che solo solo cristo gesù può spezzare può liberare ecco io usci da quella comunità sono ricaduto alle diciamo alle prime difficoltà che incontrai non più con l'eroina ma con la cocaina pensate avevo guadagnato quasi 100 mila euro con la falegnameria che avevamo avviato li ho mangiati in tre mesi io mi bucavo normalmente mille euro al giorno cioè ero sfinito ero una larva ero un cadavere che camminava cioè io non non riuscivo più neanche a stare in piedi eppure non avevo altro che pensiero che usare la droga ero circondato da persone da la mia famiglia poi abbiamo avuto anche il nostro secondo figlio non c'era niente che potesse cambiare questo mio questo mio stato ho provato poi di nuovo con le comunità ho provato con i farmaci ho provato a chiedere ma non ne venivo fuori completamente e allora nove anni fa decisi di suicidarmi perché un pensiero fisso nella mia mente mi diceva che la morte mi avrebbe potuto liberare il suicidio sarebbe stata l'unica speranza per poter liberarmi e poter liberare anche la mia famiglia ma in quel periodo proprio quando feci questo pensiero un ragazzo un ragazzo che ho incontrato che mi ha parlato proprio di Gesù e lui mi disse che Gesù poteva cambiare la mia vita e poi mi disse lo ha fatto con me mi ha liberato io ero come te un tossicodipendente ero schiavo della di questa di questo male ma in più avevo depressione avevo sempre ansia stati d'animo terribile ma Cristo mi ha liberato prova mi disse prova prova e vede quanto Dio è buono e io quel giorno il giorno del mio compleanno era in macchina con lui feci una preghiera chiusi gli occhi iniziai a confessare il mio peccato perché così mi disse quel ragazzo devi confessare il tuo peccato Andrea e poi dopo gli chiedi aiuto io iniziai a chiedere signore perdonami per tutto il male che ho fatto a mia moglie e miei figli alla mia famiglia tutte le persone che ho incontrato signore perdonami entra nel mio cuore cambia la mia vita signore io non ce la faccio più sono disperato fai qualcosa e quel giorno in quel momento in quell'istante senti dentro di me un fuoco che bruciava ci siamo abbracciati con quel ragazzo iniziai a piangere e quello è stato il momento in cui Cristo ha spezzato ogni legame Cristo mi ha liberato in un istante da ogni dipendenza perché da quel momento non è più passata droga dalle mie mani non è più passato uno spinello una siringa una bottiglia di alcol sì il signore mi ha liberato completamente pensate la domenica la mattina successiva di quella preghiera mi sono svegliato e non avevo bisogno di droga cosa che normalmente io ero abituato mi alzavo aprivo gli occhi trovare soldi e drogarmi quella mattina mi alzai e canticchiavo avevo la gioia nel cuore ed è una gioia che Dio ha mantenuto costante giorno per giorno in tutti questi nove anni nella mia vita anche quando abbiamo attraversato dei momenti terribili difficili la pace che Dio dà non è la pace che dà il mondo è una pace straordinaria ha messo gioia nel mio cuore ha messo una speranza mi ha battezzato di spirito santo e ci ha messo il desiderio di servirlo oggi assieme a Lorena serviamo il Dio nell'evangelizzazione testimoniamo a chiunque noi facciamo i postini io lei è passata di grado superiore io continuo a fare il postino e ogni occasione buona per parlare di Gesù quando porto una una multa e allora la gente si lamentano un'altra multa iniziano a bestemmiare allora gli dico perché bestemmi perché le multa ma sai che Dio ti ama ogni occasione buona per poter parlare di Dio e Dio ci sta dando grazie di vedere delle persone che così nella nostra semplicità quello che abbiamo nel cuore diamo e il Signore inizia a operare abbiamo visto di persone strappate dalle mani dell'inferno persone con dipendenze famiglie distrutte coppie disagiate abbiamo visto la gloria di Dio perché Cristo ci ha salvati e ci ha dato anche un proposito ecco però giustamente Lorena è qui anche lei ha vissuto dei momenti difficili non ha fatto uso di droghe ma ha vissuto dei momenti terribili stando vicino a me 13 anni della nostra vita della la sua vita assieme a me hanno causato tanto dolore ora lei magari vi racconterà brevemente perché il tempo è pochissimo quello che Dio ha fatto in lei si cercherò di stringere più possibile anche se ci sono tante cose da raccontare ma magari cerco di cogliere i punti principali ok 13 anni e mezzo di questa vita io ero andata a finire che mi alzavo la mattina che non avevo più neanche lo stimolo di vivere anche perché appena che aprivo gli occhi già pensavo ai problemi che avrei dovuto affrontare perché non solo non avevo un marito che mi supportava ma anzi avevo un marito quasi nemico quindi un marito che mi faceva neanche un complimento non mi aiutava in niente anzi mi rubava mi toglieva mi distruggeva perché adesso nel tempo ho capito che non era lui ma la sua mente era dominata da qualcun altro e quindi proprio stato sono stati momenti difficili momenti che sono passate da prove veramente difficili ma nonostante ciò come ho detto prima anche quando io non conoscevo il signore lui è stato sempre vicino a me perché comunque era una sua creatura e lui già mi amava e mi conosceva prima ancora che io nascessi e quindi io lo ringrazio con tutto il cuore di questo lo ringrazio perché poi dopo tredici anni e mezzo di questa vita invece nel momento in cui io volevo divorziare da lui 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 aveva iniziato a conoscere il signore io naturalmente ero sfiduciata ero piena di rabbia perché comunque mi aveva provocato tanti problemi e non ne volevo sapere più ma è stato proprio lì quando io stavo per gettare la spugna che il signore invece mi ha preso per la mano e mi ha salvato mi ha salvato in un culto perché lui mi disse così come tu mi chiedi l'ultima cosa ti chiedo l'ultima cosa anch'io vieni a vedere la chiesa che sto frequentando io mi ero tirato i conti va bene sto un'ora vedo in quale altro guaio qualche setta qualcosa di strano sia andata a cacciare mi faccio firmare il contratto e me ne vado e non lo voglio vedere mai più ma addio avevo un piano diverso rispetto a quello che abbiamo noi e grazie al signore per questo perché lui è il dio che ricompone singolarmente la nostra vita perché lui ci ama di un amore profondo lui a cura di noi e poi ha ricostruito non solo la mia vita la sua vita ma poi ha ricostruito la nostra famiglia che era piena di macerie ma lui ha fatto cioè lui può ogni cosa e quindi lui è il dio che ha costituito la famiglia vuole il bene della famiglia l'amore e anche la concezione dell'amore che lui ha per noi e anche come famiglia non è quello che avevo io che lui era la mia dipendenza e quasi quasi accettavo anche il fatto di dover soffrire da quelle cose perché pensavo che era amore no l'amore non è quello l'amore non è quando uno ti picchia non è l'amore quando uno ti offende quando uno non ti sostiene no quello non è amore fuggite da quello perché dio è il vero amore e prima dobbiamo trovare il vero amore in lui per questo io ribadisco che lui è lo sposo perfetto prima di ogni sposo carnale lui è il miglior amico potete avere milioni di amici ma lui è l'amico che non vi deluderà mai e per questo che lo voglio ringraziare perché in quel culto attraverso la sua meravigliosa parola come è stato ribadito più volte questa mattina lui è la parola cioè da principio cioè da appena che apriamo la bibbia è confermato questo concetto dall'inizio alla fine dio non si contraddice mai la sua parola è verità quella verità che mi ha salvato mi ha liberato mi ha dato tanta gioia e tanta pace al di là della circostanza che noi viviamo tante prove ancora ora stiamo affrontando delle prove e ne dovremmo affrontare ma so che dio è con noi e se dio è con noi chi sarà contro di noi e quindi la nostra pace non è legata alle circostanze ma va al di là delle circostanze quindi possiamo passare veramente per quella tempesta terribile ma dio abbiamo la consapevolezza che dio è con noi e in noi e quindi se noi stiamo al centro della volontà del signore niente nessuno ci allontanerà dal suo amore e quindi a questo voglio chiudere dando veramente a dio tutta la lode la gloria che le appartiene non so se mio marito voleva aggiungere qualcosa oltre a raccontarvi la testimonianza siamo qui per presentarvi un libro che abbiamo scritto un libro che parla proprio della nostra testimonianza nei minimi dettagli ovviamente un libro che racconta non solo che dio può liberare da queste dipendenze da queste cose da questo male ma abbiamo potuto vedere nel corso di questi anni di conversione un dio che non solo libera ma ascolta e risponde in maniera proprio pratica abbiamo potuto scrivere in questo libro testimonianze di alcune preghiere che abbiamo fatto con lorena che hanno trovato risposta specifica delle domande specifiche questo libro vuole proprio incoraggiare quanti conoscono il signore che magari stanno passando dei momenti difficili che lui ancora oggi può fare ogni cosa anche quelle cose che sembrano impossibile dio li può fare e oltre alla nostra testimonianza quella mia quella di lorena all'interno del libro abbiamo voluto inserire anche la testimonianza dei miei genitori due persone che hanno visto un figlio morire giorno per giorno hanno vissuto l'umiliazione quando mi arrestavano mio papà lavorava in posta quindi era un'umiliazione vedermi sul giornale arrestato per furto arrestato per spaccio ma loro testimoniano che le loro preghiere sono state ascoltate dal signore e dio ha cambiato le loro vite ha messo pace nel loro cuore hanno potuto testimoniare a chiunque che nonostante le difficoltà dio è intervenuto gloria a dio e in più c'è anche la testimonianza di quel fratello che mi ha parlato di gesù maurizio che attraverso la sua vita vuole sottolineare il fatto che noi come chiesa abbiamo una responsabilità perché fratelli se quel giorno quel ragazzo non fosse venuto a parlarmi di gesù chissà se io non avessi fatto finita la mia vita lui quando ha ricevuto il mio messaggio voglio parlarti è venuto all'istante e questa è la nostra responsabilità come chiesa annunciate l'evangelo lui non mi ha raccontato l'evangelo mi ha parlato di poche parole ma parole unte dallo spirito santo che hanno toccato il mio cuore e mi hanno portato a cristo gesù quindi non serve fare chissà quali studi biblici ciò che hai ciò che gesù ti ha dato diamolo agli altri ecco quindi è un libro che può essere letto da noi come chiesa sicuramente sarà di edificazione ma è un libro che possiamo anche regalare magari a qualcuno qualche nostro parente a qualche nostro collega a qualche nostro amico un libro che voglia essere proprio di testimonianza sappiate questo che dio ha messo nel mio cuore di devolvere l'intero ricavato a una comunità il centro cades è una comunità delle assemblee di dio in italia che da più di 40 anni si occupa di aiutare tutte le persone con problemi di dipendenze non solo più dell'eroina della cocaina ma anche di altri tipi di dipendenze ludopatia quindi gioco d'azzardo pornografia ogni sorta di dipendenze il cades l'ha abbracciata perché il cuore di quella comunità è cristo gesù in quella comunità hanno potuto vedere persone strappate dalle mani del nemico perché lì annunziano l'evangelo e quindi libro costa solamente otto euro ma se dio ti mette nel cuore di lasciare un'offerta sappi che l'intera offerta sarà devoluta a questa comunità detto questo io vi ringrazio per l'attenzione a dio sia la gloria ovviamente vi porto i saluti del fratello il pastore michele venditti della chiesa di padua dove stiamo collaborando con lui per gli ultimi periodi perché stiamo tornando in sicilia vi saluta caramente assieme alla chiesa di padua vi salutano nell'amore del signore dio ci benedica fratelli pregate per noi perché abbiamo bisogno abbiamo delle prove da affrontare non poco indifferente ecco quindi sosteneteci con le vostre preghiere e se alla fine del culto ecco vi fa piacere noi saremo fuori per con il libro ecco per chi ha piacere lo può acquistare dio vi benedica e ci benedica insieme addio la gloria ecco per chi ha piacere lo può acquistare dio vi benedica e ci benedica e ci benedica